Good morning a tutti, stiamo andando su che ora è? Sono le 2.45 e stiamo facendo una maseggiatina a Prati di Tivo, qua alla mia destra Peppe, qui davanti, Matteo, Giustina, tutta gente che non ha sonno praticamente, spegne la morte. Non ci sono proprio appazza, ciao, Giustina, ciao. Praticamente stiamo andando dai Prati a fare il timelapse dell'altro, giusto? Un po' di stelle, il mio latte anche, ci lasciamo? Sì, un pochino si uscirà, sperando che il tempo sia buono, non male che abbiamo il suo di l'Americo qua, se no. Grazie Mimmo! Siamo arrivati, Peppino, Cristina, va bene? Meno 10 gradi! Ma quanto mai? Fa caldissimo, fa 10 gradi, no però no, si sta bene, si sta bene. Let's go! Ci siamo, ci siamo, ci siamo, stiamo salendo. Forza, come il panorama già mi piace. Abbiamo raggiunto la vetta, eh? C'è la vetta, per modi di... Andiamo. Sì, domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'avventura è finita, il timelapse l'abbiamo fatta, l'altro abbiamo visto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.